Farmacia Sant'Antonio di Torbella Monaca, sempre rimanendo in ambito scientifico una classica relazione medico-paziente. La prima volta che l'ho preso in cura, nessuno mi ha costretto e ve lo ammetto, stavo su un autobus che ho fatto letto, e all'improvviso po' mo trova reto, che pena mi son detto poveretto, sicco bullo e giappora fa paura, chi sta per forza la giapiglia in cura in cura l'ho tenuto, nume setto. Un'altra volta che l'ho preso in cura, stavo tornando alla villeggiatura, e non me lo trovo, annanzato a orto oscuro, che se ne v'incapato faccio muro, lo guardo e penso è un caso disperato, lo ha già studiato con molta più attenzione, a ravaporteggiura, serratura e moliviglia da voto in cura. La terza volta che l'ho preso in cura, camminavo così distrattamente, tutta nutratta, se ne strirla gente, con rinza e spugliate e asciute menta. Lo guardo e penso è un caso disperato, devo astubiarne a fondo la natura, è l'unico rimedito sicuro e che a moviglia sembra fissa in cura. E già fare il dolore è una missione, si sa, si sa, curare la gente è un dovere, e poi se prendi il caso con passione, ci provi pure la soddisfazione. E visto che il dottore si è stancato, pigliatelo in cura a voi. La 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 Grazie a tutti.